C'erano diversi ragazzi che stazionavano nella zona della mensa e anche nel refettorio dove una volta venivano fatti i pasti della Chieria Forti. Da prima c'era gente che entrava con dei furgoni perché si vedevano i furgoni ancora un anno, un anno e mezzo fa, due anni, che portavano via di tutto e di più e questo era risaputo. La denuncia di questo residente di Silea su come l'ex upificio fosse occupato da sbandati o comunque abusivi e teppisti il cui via vai era cosa nota da tempo a molti cittadini. Io li vedevo tutti i pomeriggi che uscivano e entravano dalle abitazioni dall'altra parte della restera. Amarezza, rabbia e sconforto anche da parte di chi in quell'edificio ha riposto ricordi e pezzettini della propria storia di vita. Questo stabile ha dato lavoro a tutta Silea, si può dire. Ci ha lavorato con mio marito, che adesso non c'è più da 18 anni, ci ha lavorato come barcaiolo. Oggi Meta di Curiosi era diventata anche un noto punto di attrazione turistica, racconta la ristoratrice che è il locale proprio al ridosso dell'ex Molino Toso. Prima o dopo doveva succedere qualcosa, invece fatti. Io questo me lo chiedevo sempre, sai.